Giacomo ma allora goditi la vita cioè goditi la vita ma quando è che ti goderei la vita vuol dire almeno una gioia ragazzi questi sono discorsi da frustrati se per avere una gioia devo bere o devo fumare che vita di merda ho questa è la vita del supervivere o del sopravvivere questo è un sopravvivere è anche male ok se io per vivere bene devo bere o fumare sono messo come la merda sono messo così male così male così lontano dall'1% che è bene che mi metto in riga più velocemente possibile bene benvenuto in questo nuovissimo podcast 1% podcast oggi parliamo di un argomento molto importante il perché non fumo e soprattutto non bevo e quindi perché sono a stemio e soprattutto perché dovresti farlo anche tu se vuoi far parte dell'1% qui Giacomo Freddi e questo è l'1% podcast ovviamente se ci segui da un po' se è un nuovo podcast aspetta alla fine di questo episodio magari se è la prima volta che vedi questo podcast ma ovviamente commentaci metti mi piace metti following quello che ti pare in qualsiasi piattaforma secondo la piattaforma dove sei e condividi con i tuoi amici perché questo è un super episodio allora iniziamo abbiamo detto perché non fumo ovviamente perché non fumo dice banale Giacomo allora perché non so quanto quanti milioni di italiani fumano quanti miliardi nella popolazione mondiale fumano il fumo è la cosa più stupida del mondo ok non solo perché è una cosa senza senso ok uno prende fuma e senza senso ma ci sono delle cose importanti e qui c'è anche una piccola storia legata a me personale per cui ho sempre andato a fumare e non ho mai fatto un tiro di sigaretta in vita mia ma analizziamo un po' la cosa uno il fumo io non compro mai non compro mai niente da uno che puzza di fumo o mi fuma davanti grazie al dio grazie al cielo nessuno ultimamente fuma davanti a qualcuno quando vende ma se c'è una cosa che odio è quando uno fuma quando uno puzza di fumo oppure quando uno fa quella cosa lì che prende il caffè e poi prende la sigaretta perché chiaramente è un'abitudine no dio quant'è bella la sigaretta dopo il caffè quant'è bella e tu stai pensando giacomo mi stai facendo venire voglia di fumare male sei schiavo del fumo ok però quelli che prendono la sigaretta dopo il caffè ragazzi lighto fa schifo forse è peggio della cacca forse è peggio della puzza di cacca ragazzi non vi immaginate quanto fate schifo quando fumate dopo aver preso il caffè e parlate vicino a qualcuno lo odio l'odio e non sono io lo odiano tutti quanti e tutti quanti odiano la puzza di fumo quindi questo è il prima cosa la puzza di fumo 1 2 denti che si ingialliscono ok sappiamo tutte queste cose qui la salute adesso si arriviamo anche su quello ma importante la cosa più importante in assoluto sono le abitudini ragazzi non c'è cosa peggiore mi ricordo quando andavo a cena con un gruppo di persone di cui 80% fumavano magari mi trovavo e può essere una cena di lavoro può essere una cena di amici può essere una cena di calcio qualsiasi cosa quelli che fumano si alzano perché non non possono fumare grazie dio dentro e questo anche questo da pochi anni quando ero piccolo si poteva fumare non mi ricordo l'anno in cui è stato vietato di fumare all'interno per fortuna è stato vietato questi si alzano vanno fuori e lasciano tutti quella quegli altri dentro perché vanno a fumare ok iper maleducazione iper maleducazione ok avere quelle cose in tasca che puzzano di tabacco ragazzi il fumo dovrebbe essere cancellato dalla faccia della terra ok tre importante e questo lo sanno tutti si fuma fumare è stupido fumare è stupido e fumano comunque molti fumano comunque magari tu stai fumando in questo momento ok vuol dire che chi fuma è stupido nessuno è stupido al mondo ma fa cose stupide ok decida di fare cose stupide fumare è stupido chiaramente per la salute allora devi sapere che io ho perso mio papà per via del fumo ok ha avuto un tumore ai polmoni che erano praticamente ci hanno detto quando gli hanno fatto la biopsia ragazzi ci sono praticamente c'è uno strato di catrame dentro quei polmoni ok mio papà era un fumatore incallito e probabilmente ho sempre avuto paura di qualsiasi dipendenza compresa quella del fumo che è una dipendenza ok uno è tossico dipendente se è legato ad una cazzo di stupidità come le sigarette ok perché probabilmente ho sempre visto mio papà che doveva fumare x sigarette al giorno altrimenti non stava bene ok e questo mi ha sempre dato fastidio io voglio essere dipendente ma da cose che fanno bene dai soldi ok i soldi fanno bene dall'alimentazione buona dall'allenamento sono dipendente dal fare l'amore sono dipendente non a livelli estremi ma nel modo giusto chiaramente fate l'amore ma perché dovete fumare fate l'amore e se non avete con chi fare l'amore abituatevi trovate capite come trovare qualcuno perfetto per voi per fare l'amore ok e parlo con uomini e donne di tutti gli orientamenti sessuali di qualsiasi tipo ma fate l'amore ragazzi ora non sto facendo il piss e il love fate l'amore non fate la guerra non c'entra un cazzo fate l'amore invece di fumare fate l'amore invece di drogarvi non fate tutti e due oh io faccio tutti e due bravo il coglione ok bravo il coglione ragazzi lasciate stare lasciate stare le sigarette non fumate allora io sono sicuro che se uno avessi speso tutti quei soldi in sigarette fate il conto sicuramente lo fate il conto chi fuma in modo regolare fate il conto in quante sigarette fate fumate e quanti soldi andate a spendere due se facessi il conto di quanto magari sei un fumatore di quanto tempo avrei perso di quanta occasione avrei perso per dover fumare tu dici ah le puoi anche guadagnare se uno fuma non me frega un cazzo le posso guadagnare io posso avere io ho clienti che fumano e comunque e comunque sono i miei clienti e comunque li ho presi come clienti non perché fumavano non ho bisogno del pretesto del fumare per andare a porciare un cliente o una ragazza o un ragazzo ok ho bisogno del coraggio non ho bisogno di una scusa come il fumo ho bisogno del coraggio di sapere come si fa anche senza fumare ok quindi puoi fare tutto senza il fumo il fumo è una cosa stupida il fumo puzza il fumo ti dà abitudini di merda davanti alle persone e anche per te stesso il fumo ti rende schiavo non solo di soldi ma di tempo e di salute il fumo fa male alle salute ti accorcia la vita che cazzo fumi a fare ok Giacomo lo dicono tutti se fosse così facile è così facile noi abbiamo ragazzi che hanno iniziato con noi a fumare noi non prendiamo nessuno che fuma e anzi li prendiamo diciamo sei disposto a smettere così di fumare domani perché ti prendo domani ma l'unico neo è il fumo sei disposto a smettere domani e abbiamo ragazzi che hanno smesso di fumare istantaneamente ok se no non li prendiamo quindi è una decisione e vi assicuro ragazzi che per chi di voi fuma smettete adesso fate la decisione avete la vita che volete poi se volete una vita mediocre 99% e voi scegliete di averla rispetto se volete fumare che dici oh non me ne farei un cazzo di fare nient'altro fate quello vi pare non mi venite intorno perché mi dà fastidio ok mi dà fastidio lo sento da lontano e non andate intorno a chi non fuma perché dà fastidio a tutti quelli che non fumano ragazzi il venditore voi fate i venditori e siete venditori qualsiasi cosa fate nella vita professionisti imprenditori mogli mariti padri madri siete tutti venditori perché dovete vendere a qualcuno un'idea ai figli alla moglie al marito ai dipendenti ai collaboratori agli investitori cazzo non fumate perché se trovate qualcuno che fuma nessun problema forse ma se trovate qualcuno che fuma voi abbassate incredibilmente la conversion rate il tasso di conversione nel vendere la vostra idea qualunque essa sia e farvi dare quello che volete dalle persone ok questo è garantito quindi smettete di fumare ecco il motivo per cui non fumo e perché ovviamente provoca dipendenza lo sappiamo fumare è dipendenza ok fumare è dipendenza detto questo due seconda cosa ci metto una cosa in più perché smettere di fumare io sono nato in Umbria sono cresciuto in Umbria e ci sono molte persone molti contadini in Umbria che lavorano i campi e quando lavorano cose diverse dal tabacco in conto non sempre ma quando sicuro quando c'è il tabacco non vi dico non vi dico il tasso dei tumori che ci sono in Umbria non solo legati al fumo ma legati all'acqua magari che uno beve per il terreno coltivato con i pesticidi che fanno male alla salute mi ricordo quando andavo a correre in mezzo ai campi andavo a correre per allenarmi d'estate dove in mezzo ai campi c'era una puzza una puzza incredibile che proprio dei pesticidi che ti entra dentro ti fa male clamoroso ok sono contento anche di essere andato tu pensi che stare a Milano fa peggio di stare in Umbria no vai in Umbria quando ci sono i campi di tabacco ok quando ci sono i pesticidi d'estate e dimmi dimmi quale fa peggio delle due ok quindi è meglio stare a Milano con lo smog che stare lì in Umbria mezzo alla natura ma con i campi di tabacco quindi un'altra pessima cosa per chi fuma è che non solo fa male a se stesso o alla propri sogni nella vita a chi gli sta intorno ok e alle proprie finanze ma fa male anche chi coltiva anche chi coltiva stesso il tabacco e fa male anche chi abita in quelle zone fa male all'ambiente fa male a tutto ragazzi il fumo è una merda ok fumo è una merda ed è buffo perché è stato vietato di fare pubblicità al fumo o non è stato vietato di vendere sicarette quindi ragazzi combattiamo questa guerra insieme smettiamo di fumare è una cosa più stupida al mondo più stupida al mondo e chi di voi ragazzi 18 anni 15 anni 14 anni ha iniziato questa è una cosa che non ho mai avuto come problema per fortuna chi di voi ha iniziato per compiacere gli altri perché gli altri è figo se fumano fa cagare ok vedi una bella donna oh bella quella donna poi inizia a fumare fa schifo ok fa schifo quindi ragazzi no no se qualcuno di voi fuma se avete gli amici che fumano e voi siete tentati a iniziare a fumare perché gli amici fumano perché intorno a voi fumano fate quelli forti fate i driver fate gli imprenditori fate gli un per cento che siete i cazzuti della situazione e portate gli altri a smettere di fumare glielo dite anche mi ricordo quando i miei amici mi mi presentavano le sigarette e io gli prendevo sì sì come no vuoi fare un tiro come no dammi la sigaretta gliela prendevo la buttavo per terra e la pestavo ma cosa hai fatto già dai ti ho fatto uno scherzo dammelo un'altra stessa cosa con la l'accendevano stessa accendila tu che non la so accendere accendevano presa tu dammelo un'altra ancora no no già con un basta ok allora non mi dire più di fumare ok quindi fate questo siete dei driver siete delle persone non siete cazzuti se fate le pecore come gli altri siete cazzuti se non fate le pecore se portate gli altri a fare quello che fate voi e se gli altri fumano se altri non vi piacciono fate come me tagliate i punti ok tagliate i punti e state con persone che fanno quello che voi volete fare ok poi qualcuno dirà ah sì ma anche Marchionne fumava anche quello che cazzo me ne frega posso fare quello che ha fatto Marchionne senza fumare ok non è che chi fumava che ha fatto grandi cose allora allora era un grande no per me non era un grande se uno fumava ha fatto grandi cose non è un modello da seguire non vuoi fare grandi cose meglio non farle se devo fumare tutta la vita ok meglio non farle ma il bello qual è è che ci sono persone che fanno grandi cose senza fumare e qui Giacomo Freddi e scusa se ho interrotto il mio podcast ma ho un'informazione molto importante da dirti allora abbiamo creato questo brand I love haters sai se mi segui da un po' come la penso con gli haters se non lo sai vai a vedere clicca qui sotto in questa descrizione di questo podcast qualunque piattaforma tu stia vedendo il podcast appunto clicca qui sotto perché c'è una nuova pagina I love haters su Instagram nei social seguici su Instagram condividi la pagina perché gli haters ragazzi sono parte del percorso molti vengono bloccati dagli haters ma gli haters sono parte del percorso gli haters in ogni caso sono lovers altrimenti perché mi domando perché uno dovrebbe dedicare anche solo un nanosecondo di tempo a commentarti sotto qualcosa a offenderti lo fa perché vede in te qualcosa che lui non fa e quindi si vuole giustificare perché lui non lo fa gli haters però sono necessari più ai haters e più stai facendo bene gli haters come i lovers sono spettatori guarda avanti ok devi avere gli haters aiutaci a diffondere questo messaggio e smettere di bloccare le persone da raggiungere il loro potenziale ok perché sono bloccati dagli haters diffondiamo questo messaggio insieme clicca qui sotto e segui la pagina torniamo al podcast 1 2 perché sono estremio allora non ho nulla contro bere un bicchiere di vino ogni tanto assolutamente mia moglie lo fa fine settimana andiamo davanti a un bel pezzo di carne ok vino mi piace da morire ok la birra non fa male se ne bevi il giusto ok non niente di quello non è per dipendere ovviamente se poi lo fai in mezza settimana ragazzi quelli che bevono tutti i giorni in mezza settimana alcol anche poco ogni giorno anche un piccolo bicchiere di vino ragazzi non va bene fa male ma se lo fate una volta fine settimana va benissimo ci sta il punto è perché sono completamente estremio anche se mi piace il vino anche se di estate mi piacerebbe un bel bicchiere di birra quando è caldo fuori domenica magari un bel bicchiere di birra fresca non lo faccio sai perché perché la disciplina dà libertà e io so che quando bevo anche un bicchiere di vino anche se sono a posto sono a posto ok anche se non vuol dire che sono ubriaco per niente anche magari due bicchiere di vino un bicchiere di qualunque cosa sia mezzo bicchiere di vino la mattina non sono fresco la mattina provate a pensare provate a smettere di bere qualsiasi voi state bevendo anche un bicchiere al weekend provate a smettere di bere e vedete la mattina quanta quanta lucidità mentale avete sembra un po come il film limitless quando prende la pasticca oh limitless limitless pensa che pensa se tutti tutti i giorni fosse limitless ok quindi io personalmente non bevo perché nemmeno sabato sera o venerdì sera o domenica sera mai perché io se voglio lavorare la domenica mattina deve essere 100% focus se vuoi registrare un video come questo deve essere 100% focus no che oddio devo andare a correre prima per smaltire le tossine per riprendermi o devo fare push up mi alzo ok faccio comunque push up ok ma sto bene fisicamente ah questo accade anche con il cibo chiaramente quando mangi troppo quando mangi male a volte mi accade mi capita se però il giorno dopo non lavoro ho deciso di non lavorare magari la domenica non lavoro ok di solito lavoro ma magari la domenica non lavoro magari esagero un po con il cibo mi fa la stessa cosa soffusca la mente perché l'intestino è collegato alla mente ma l'alcol ragazzi l'alcol fa male ovviamente e non bevo non vuol dire che non dovete fare che per fare qualunque cosa volete fare nella vita entrare nell'1% per qualsiasi cosa voglia dire per voi ok che sapete quello che vuol dire per me questo oggetto di un altro episodio non dovete bere nemmeno un bicchiere di vino o di birra eccetera fate quello che volete quello che vi dico io eliminate l'alcol e già solo il fatto di dire ora mi sono messo lì ho anche eliminato l'alcol vi dà un commitment vi dà una serietà incredibile per dire oh cazzo ho eliminato questo eliminato quell'altro e allora posso prendermi tutto quello che voglio nella vita e controllo controllo me stesso per controllare il mio sterbo se io riesco a controllare me stesso riesco ad essere disciplinato riesco ad avere la libertà perché riesco a prendermi cosa voglio nella vita le persone ti vedranno fuori come un cazzuto come qualcuno che fa qualcosa che gli altri non riescono a fare anche se fosse solo diventare astemio ok e quando lo farete diventerete magari astemi ci sono persone oh ma dai nemmeno un bicchiere di vino ma dai fate un bicchiere di vino dai ma questo non beve ma dai uno che non beve qui siamo in veneto uno che non beve in veneto che cazzo mi frega puoi pensare quello che cazzo vuoi tu sei quello più forte e sono gli altri che si devono adeguare a te e tu fai quello che vuoi e te ne freghi del pensiero degli altri perché sei veramente pericoloso pericoloso vuol dire che te ne freghi degli altri ed è pericoloso e positivo ma se tu se tu cedi agli altri anche qui come il fumo se tu cedi agli altri dai dai fai un bicchierino e basta che ti frega dai bisogna festeggiare brindare a volte io brindo brindo con un bicchiere di vino di spumante ma ci tocco le labbra ok bagno leggermente le labbra e fin sento se è buono piccolo sorso manca un sorso mezzo sorso per capire se è buono il vino se è buono fantastico buonissimo mi piacerebbe bello non me ne frega niente perché domattina devo devo creare il mio futuro ora dirà alla fine di questo di questo podcast ok gioco ma io cosa devo fare ok intanto fumare si mette di fumare qualsiasi cosa perché è la cosa peggiore al mondo metti dentro il corpo qualcosa che non ha senso non è fatto per creare quella roba lì lascia stare due bere non devi smettere di bere magari sì magari no e ti consiglio di sì perché sei all in hai un commitment questo ovviamente se devi fare qualcosa di importante e se sei qui ascoltare il 1% podcast probabilmente è così mi dirai però giacomo ma allora goditi la vita cioè goditi la vita ma quando è che ti goderei la vita vuol dire almeno una gioia ragazzi questi sono discorsi da frustrati se per avere una gioia devo bere o devo fumare che vita di merda ho questa è la vita del supervivere o del sopravvivere questo è un sopravvivere è anche male ok se io per vivere bene devo bere o fumare sono messo come la merda sono messo così male così male così lontano dal 1% che è bene che mi metto in riga più velocemente possibile come come mi diverto come mi godo la vita ripeto uno faccio l'amore ok fare l'amore è la cosa più bella del mondo due mi godo la vita giro viaggio tre sto con i miei figli quattro do una vita ai miei figli cinque ottengo e vinco giorno dopo giorno un mese dopo mese col mio team nel lavoro sei sei le persone che mi ringraziano e ci ringraziano ma è il mio team per il lavoro e per come abbiamo cambiato la vita ok questo è godersi la vita la libertà non ci ho messo questo la libertà di fare quello che vuoi di viaggiare quello che vuoi di permetterti quello che vuoi una bella macchina una bella casa aiutare una beneficenza aiutare qualcuno che ne ha bisogno come abbiamo fatto più volte una cosa che non promuovo mai così tanto perché uno lo fa e non deve per forza sventagliare le 420 magari succederà più avanti ok questa è godersi la vita godersi la vita avere la libertà avere le possibilità non voglio manco libertà voglio possibilità questo è godersi la vita fare una vita che l'un per cento e basta sta facendo che non significa solo soldi e macchine non c'entra un cazzo vuol dire fare quello che vuoi nella vita può essere anche andare in un anno sabbatico che ne so in cima in tibet con i monaci tibetani quello che ti pare se è quello che ti piace ma la possibilità di farlo la possibilità di fare quello che vuoi di non guardare quello che dicono gli altri questo è vivere la possibilità di allenarsi a volte mi faccio 10 km di corsa un po' che non lo faccio dire il vero libertà totale assoluta questo è godermi la vita stare bene fisicamente sentirmi bene fisicamente in forma sentirmi in forma sentirmi sempre un passo avanti rispetto agli altri questa questa è vita questo è godersi la vita non fumare non bere bere fumare mangiare ok questo è quello che su cui si buttano le persone quando tutto quello che ho detto io non c'è quando manca tutto quello che invece la cosa bella a svegliarsi presto la mattina godersi la mattinata invece di bere tra quattro bicchieri la sera per fare un po' i coglioni con gli amici magari ti diverti in quel momento ma la mattina butti il giorno butti metà mattinata e la mattina il momento godersi la mattina la mattina il momento più bello della giornata la mattina è dove crei la mattina è dove ti diverti la mattina quando non c'è niente di meglio anche se non lavori di domenica mattina svegliarsi e fare una corsetta prova prova alle 7 di mattina magari d'estate una corsetta in campagna in mezzo da Milano questo è vivere questo è godersi la vita godersi la vita e sentire tua moglie o la futura moglie o la futura fidanzata magari che ti dice ti amo ho fatto sto bene con te mi piace mi hai cambiato i collaboratori che ti dicono mi hai cambiato la vita tu che dici ai collaboratori mi avete cambiato la vita tu che dici alle persone intorno a te mi avete cambiato la vita loro che te lo dicono di conseguenza tu che innovi crei ok tu che viaggi che guardi cose nuove nella vita scopri cose nuove curiosità di creare qualcosa di nuovo di rischiare in molti casi avere l'entusiasmo l'adrenalina di rischiare qualsiasi cosa voglia dire per te rischiare questa è godersi la vita ok quindi basta fumare smetti anche di bere magari un bicchiere ma togli anche quello se sei un vero cazzuto togli anche quello se disciplinato togli anche quello controllerai te stesso non per togliere il bicchiere ma toglierai te stesso e controllerai controllerai scusami te stesso e controllerai anche la tua vita ok e soprattutto goditi la vita paga il prezzo oggi per goderti la vita domani e dovrai sempre pagare un prezzo ascoltami bene oggi io ho una vita che anni fa nemmeno immaginavo quando ho iniziato a scrivere i miei obiettivi erano molto più bassi di quello che sto facendo oggi e adesso sono estremamente più alti molto più lontani da quelli che sto facendo oggi in ogni caso è questo che mi piace sono contento ma non sono soddisfatto e per farlo mi serve disciplina sono più disciplinato oggi che quando ho iniziato quindi ragazzi questo un per cento podcast spero che vi sia piaciuto questo episodio sicuramente vi è piaciuto per me non esiste la parola speranza quindi sicuramente vi è piaciuto perché un episodio come questo l'avete sentito poche volte ma detto questo se vi è piaciuto l'episodio e vi è piaciuto come dico sempre altrimenti non sareste arrivati fino a qui ragazzi commentate condividetelo passato da qualcuno ragazzi questo è l'un per cento podcast non vedo l'ora di mostrarvi il prossimo episodio ci vediamo lì